Ciao sono Luca di Mister Gadget, noi di solito ci occupiamo di tablet, smartphone e prodotti insomma che viaggiano con noi oggi invece entriamo in casa con Procenic D550 e se qualcuno di voi ha detto che, allora Procenic D550 è un robot aspirapolvere, smart vacuum se volete chiamarlo insomma Robo Vacuum Cleaner, trovate voi il nome adatto, il robottino che pulisce dentro casa e in questo caso vi segnalo Procenic perché con un prezzo molto aggressivo che è di circa 450 dollari vi propone un prodotto in grado di aspirare e anche di lavare dentro la vostra casa è un prodotto compatibile anche con Alexa che quindi si può governare con la voce che ha la capacità di mappare la vostra casa attraverso un sistema laser ci sono molti dettagli importanti che riguardano Procenic D550 a partire dal fatto che è fatto con una forma quadrata, squadrata quantomeno è quindi più facile raggiungere le zone d'angolo nella vostra casa per eliminare lo sporco c'è una parte più grande, diciamo allargata rispetto ad altri prodotti sul mercato aspirante e anche un cassetto che contiene lo sporco che raccogliete più grande rispetto ai prodotti concorrenti oltre a questo c'è la capacità di riprendere lo sporco che è dentro la vostra casa attraverso questa spazzola AV che alterna setole e parte gommose e che quindi è in grado di catturare la sporcizia in modo più efficiente questo sistema D550 è in grado di aspirare ma anche di lavare lo fa con il controllo della app che vi permetterà di gestire il tipo di pulizia che volete dentro la vostra casa. Tramite l'app potrete costruire anche dei muri virtuali all'interno della vostra abitazione senza bisogno di mettere né parti appiccicate sul pavimento come per alcuni altri prodotti sul mercato né delle boe o dei segnalatori da spargere per la casa farete tutto in modo virtuale direttamente attraverso la vostra app efficiente anche nel riuscire a scalare i tappeti che riesce a gestire con uno spessore che arriva forse al massimo ai 2 centimetri come anticipato la batteria è di buona qualità ci sono 3200 mAh di batteria in grado di far funzionare il D550 per un'ora e mezza e di pulire addirittura una superficie che arriva fino a 180 metri quadri come detto potete governare tutte le attività di D550 anche con la voce date un occhio qui sotto perché per i prossimi giorni potrete acquistarlo con il 10% di sconto ciao da Mr Gadget